Questo è l'imprendi promotore, quando il consulente finanziario diventa imprenditore. Che cos'è la leadership? Come può aiutarti nel tuo lavoro di consulente finanziario? E poi, leader si nasce o si diventa? Scopri le strategie più efficaci per poter migliorare il tuo business e la tua impresa di consulente finanziario. Questo è l'imprendi promotore, con Enrico Florentino. Ciao e grazie per aver deciso anche quest'oggi di stare in mia compagnia ascoltando la puntata numero 5 dell'imprendi promotore podcast. Io sono Enrico Florentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria. Prima di cominciare questo episodio, però, prenditi un momento per iscriverti a questo podcast e se ti va, lascia ovviamente una recensione. Per me sarà molto, molto, molto importante. I feedback dei miei ascoltatori sono la benzina con la quale poi ogni volta vado a registrare una puntata cercando chiaramente di migliorare il più possibile quelli che sono i contenuti che sono appunto rivolti a te, consulente finanziario. Oggi vorrei trattare un argomento che è a me molto caro ed è il tema appunto della leadership. Come ho avuto modo di introdurti all'argomento con il teaser, ovvero leader si nasce o si diventa? Piuttosto che come può aiutarti la leadership nel tuo lavoro di consulente finanziario, ti faccio subito una premessa, credo che la leadership sia fondamentale per riuscire a costantemente metterti nella condizione di poter migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria. Però prima di addentrarmi un po' nell'argomento della puntata, vorrei farti una domanda, ovvero il leader in un organigramma aziendale esiste, ma soprattutto esiste come job description, come casella, sappiamo benissimo che in un organigramma c'è la casella dell'amministratore delegato, c'è la casella del CFO, ovvero del direttore finanziario, c'è la casella del capo del marketing, del CMO, piuttosto che la casella del COO, per usare questi tre termini tipici dell'organigramma organigramma espresso in lingua inglese del capo delle operation. In realtà la figura del leader non esiste, nel senso che non esiste una casella, anche se in ogni azienda, compresa la tua, la figura del leader c'è, e solitamente è una figura di quella persona che viene riconosciuta dagli altri. Non esiste in un organigramma aziendale, ma appunto viene riconosciuta proprio perché ha delle caratteristiche che vedremo fra poco, sono quelle che vanno a far risuonare dei messaggi importanti nelle altre persone. Anche tu che sei a capo di un'impresa, nello specifico la tua impresa di consulenza finanziaria, significa hai un organigramma dove però tutte le figure, a partire dall'amministratore delegato dell'impresa e a seguire con il capo del marketing, il capo delle operation, il capo della finanza, tutte queste figure sono rappresentate da te e questo potrebbe costituire un indubbio vantaggio se lo pensi dal punto di vista della velocità con cui potresti andare a prendere delle decisioni, ma certamente invece rappresenta uno svantaggio importante perché hai a che fare con una persona che appunto sei sempre tu e con la quale spesso e volentieri lotti per andare oltre la tua zona di confort, andare oltre quelle che sono le tue abitudini e conseguentemente ti trovi a fare i conti con un tema di leadership e soprattutto una leadership di sé stessi. Pensando un poco alla figura del leader, alla figura del leader aziendale, la prima cosa che mi viene in mente è che il leader solitamente ha delle grandi capacità di assumersi le cosiddette responsabilità. Quando parlo di assumersi la responsabilità vuol dire, andando a vedere l'etimo della parola responsabilità, è appunto quella di individuare e avere una capacità, delle abilità di dare delle risposte a determinate situazioni e a determinate eventi. Ma ancora di più, e mi sentirai molto utilizzare questo termine durante questa puntata del podcast, essere causativo. Cosa vuol dire essere causativo? Essere causativo vuol dire quello di intestarsi costantemente la responsabilità di quanto accade. Sia che le cose siano belle, positive, che siano profumate di vittoria, di grandi risultati, di soddisfazione, ma soprattutto anche quando le cose presentano aspetti negativi, siano brutte, non rispondano alle aspettative magari dei vari portatori di interessi che ruotano intorno all'impresa, e fra poco parlerò anche di questi, e siano maleodoranti, quindi non odorino di cose belle, di cose positive, di bei risultati, ma purtroppo odorino magari di risultati negativi, piuttosto che anche di un ambiente aziendale che non è particolarmente piacevole per chi lo vive. Scopri le strategie per migliorare il tuo business e la tua impresa di consulente finanziario, l'imprendi promotore. Ecco, è proprio questo il tratto distintivo del leader, è proprio quello di non considerarsi un effetto di eventi, bensì una causa. Cerco di spiegarmi meglio. Ogni qualvolta noi viviamo una determinata situazione, probabilmente ne subiamo anche le conseguenze. In realtà il muoversi con una spiccata dote di leadership vuol dire anche assumersi, come ti dicevo poco fa, la responsabilità che se le cose stanno andando in un certo modo lo debbono essenzialmente a un tuo modo di agire, a un tuo modo di essere, a un tuo modo di rapportarti, per esempio, con il mondo esterno piuttosto che con i collaboratori. C'è un bellissimo libro che è uno dei capisaldi della leadership, che è intitolato The Seven Habits of Highly Effective People, che è stato tradotto qui in Italia con le sette regole per avere successo. L'autore è un grandissimo della leadership, è Stephen Covey, che racconta appunto come per poter esercitare, ma soprattutto per poter sviluppare la propria leadership, è necessario partire dalla fine. Che cosa intende Stephen Covey nel concetto del partire dalla fine? E lui lo esplicita con un esempio, che potrebbe anche sembrare un esempio abbastanza forte, che è quello di immaginarsi al proprio funerale. Immaginarsi al proprio funerale vuol dire essere lì, composto nella bara, ed ascoltare però tutte le orazioni funebri che le persone che hanno avuto a che fare con noi nella vita, nei differenti ruoli che noi ricopriamo quotidianamente, ascoltare le orazioni funebri e comprendere e cercare di capire che cosa loro potrebbero dirci nel momento in cui verranno al nostro funerale. E in quel frangente è molto probabile che se noi riflettiamo su quelle che potrebbero essere le parole che ci piacerebbe ascoltare e provenire da i nostri figli, il nostro partner, i nostri colleghi, i nostri capi, le persone che hanno a che fare con noi nel mondo dell'associazionismo, le persone che hanno avuto a che fare con noi nel mondo professionale, penso ai clienti, ebbene ogni qualvolta noi ci trovassimo a dover immaginare che tipo di orazioni funebri queste persone potrebbero fare in merito al ruolo che noi abbiamo rivestito nella nostra vita, ebbene lì potremmo immediatamente comprendere quali sono le aree di miglioramento e sulle quali abbiamo una responsabilità diretta per avere un giorno e per essere considerati di fatto per quelle persone dei leader o dei mentori. Covey peraltro va oltre questo esempio, questo gioco che ti porta a fare proprio per ragionare su come stai conducendo la tua vita. Covey racconta che una vita è equilibrata tra i differenti ruoli, quindi un buon equilibrio tra la vita personale e la vita professionale, e all'interno della vita personale un buon equilibrio tra i vari ruoli che esercitiamo, se abbiamo ancora la fortuna di avere dei genitori, il ruolo di figli, ma se nel contempo siamo genitori, il ruolo di appunto padre o madre nei confronti dei nostri figli, piuttosto che il nostro ruolo come partner nei confronti di nostra moglie, di nostro marito, del nostro fidanzato, della nostra fidanzata, ma poi spostandosi in ambito professionale, per esempio, il ruolo che abbiamo nei confronti dei clienti, piuttosto che il ruolo che abbiamo nei confronti dei colleghi, o il ruolo che abbiamo nei confronti, per esempio, di chi ci coordina. Ebbene, tutti questi ruoli sono legati l'un l'altro in una sorta di sistema a vasi comunicanti. Un sistema a vasi comunicanti che potrei raffigurarlo come, a seconda del numero di ruoli che interpretiamo contemporaneamente durante la giornata, mediamente ciascuno di noi riveste tra i sette e i nove ruoli, ebbene, se tu immaginassi che ciascun ruolo fosse rappresentato da una cisterna capiente che potesse contenere diecimila litri di acqua, di acqua pura, immaginati questa cosa, otto cisterne da diecimila litri di acqua pura che però sono collegate ciascuna l'una all'altra come dei vasi comunicanti. Immagina che in una di queste cisterne cominciassimo ad introdurre prima alcune gocce di inchiostro e poi litri e litri di inchiostro fino addirittura a rendere non potabile l'acqua di una di queste cisterne. Immediatamente dopo quest'acqua non più potabile comincerebbe, proprio per il sistema dei vasi comunicanti, ad espandersi in altre e differenti cisterne rendendo realmente non potabile l'acqua delle altre cisterne che rappresentano altri ruoli. Covei da questo punto di vista rappresenta in maniera magnifica questa cosa perché spesso e volentieri quando magari le cose a casa non vanno bene ecco che queste vanno a riflettersi anche nell'ambito professionale o viceversa. È per questo che ricercare un equilibrio tra i differenti ruoli, un equilibrio che è sempre molto difficile da raggiungere ma che deve diventare una sorta di obiettivo a cui si deve costantemente tendere può diventare veramente l'esercizio di leadership più importante che possiamo fare nei confronti degli altri ma soprattutto nei confronti di se stessi. E ti renderai conto che per esercitare la leadership e per poterla esercitare nei differenti ruoli la cosa più semplice da poter fare è appunto agire ma soprattutto pianificare quelle azioni che molto spesso noi facciamo in maniera incidentale e che in realtà se strutturate e pianificate possono permetterci realmente di trovare il giusto equilibrio nel poter dare a tutti ciò che si aspettano ma nel contempo anche essere considerati dei leader e dei mentori e quindi riconosciuti proprio in tema di leadership e di mentorship. C'è un altro libro che ritengo essere un libro fondamentale purtroppo qui in Italia non viene più stampato è uscito fuori catalogo ed è di Benjamin Zander un altro mio grande punto di riferimento per quel che riguarda la leadership. Benjamin Zander è un direttore d'orchestra ti invito a cercare su YouTube piuttosto che anche su Google digitando appunto Benjamin Zander e ti invito a cercare tutti i suoi video e tutti i suoi discorsi tutti i suoi scritti perché? perché lui dimostra quanto sia fondamentale ed importante esercitare la leadership attraverso un'arte che è quella della possibilità. Zander fondamentalmente dice che nel momento in cui noi riceviamo degli stimoli dall'esterno ed è tipico anche dei leader il leader ha la grande capacità di chiedersi subito è l'unica risposta a questa quella che sono in grado di poter dare per poter magari risolvere una determinata situazione? Oppure posso cercare e trovare delle altre risposte che mi consentiranno ad esempio di poter uscire da una situazione difficile da una situazione drammatica oppure di ispirare ad esempio le persone che fanno riferimento a me ecco la leadership come dicevo all'inizio è proprio questo avere la capacità di far risuonare nelle altre persone dei messaggi in modo tale che le persone ascoltando il leader sentano fondamentalmente che sono lì per se stesse è incredibile questa cosa lo dimostrano tantissimi leader nella storia penso a Gandhi penso allo stesso Martin Luther King Martin Luther King quando fece il celeberrimo discorso a Washington di fronte a 220.000 persone il famoso discorso a Eve Dream presenti a quel discorso erano non solo afroamericani ma c'erano tantissimi bianchi e lì erano ad ascoltarlo ma soprattutto erano a ascoltare un messaggio che risuonava moltissimo in loro e soprattutto erano lì per se stessi perché credevano ad esempio in un mondo migliore credevano nella parità tra persone ed individui di differenti etnie e credevano appunto che questo fosse possibile proprio attraverso la loro presenza e ascoltando il messaggio di Luther King questo è l'imprendi promotore con Enrico Florentino torno però in questa disamina della leadership e di quanto la leadership possa esserti utile e di quanto tu possa e debba allenarla come consulente finanziario per sviluppare la tua impresa di consulenza e per migliorarti come professionista e come donna e come uomo appunto al termine della causatività perché molto spesso ogni qualvolta noi veniamo colpiti da uno stimolo esterno in linea di principio se lo stimolo che ci deriva dall'esterno anche ci procura per esempio un danno o un dolore la prima cosa che noi facciamo siamo subito a cercarne il colpevole e questo vuol dire nel concetto che Stephen Covey elabora nel suo libro appunto le sette regole per avere successo è un concetto che porta veramente in un vicolo cieco perché perché interrogarsi costantemente su di chi sia la colpa porta molto spesso a non assumersi una responsabilità nel cercare di risolvere i problemi e questo vuol dire essere costantemente sull'effetto e non sulla causa quando parlo di causatività intendo proprio il fatto che se ci sono dei problemi nella tua impresa se per esempio non raggiungi determinati risultati se per esempio vedi che il numero di clienti non cresce se per esempio hai una riduzione per esempio delle masse delle fuoriuscite la prima cosa che ti devi chiedere è soprattutto non di chi sia la colpa perché nel momento in cui tu dovessi andare a chiederti di chi è la colpa e può essere del mercato un giro può essere della società mandante la seconda volta la terza volta potrebbe essere di un cliente che non va particolarmente d'accordo con te e via dicendo comunque rischierai di toglierti dalla responsabilità più rilevante che è quella che forse se ciò è accaduto è perché non hai agito in anticipo nel cercare di evitare questo tipo di problema ecco che la causatività come dicevo poco fa genera causatività se non fai qualcosa per risolvere il problema che ti è capitato e i leader solitamente agiscono costantemente d'anticipo rispetto alle problematiche sarà il problema a controllarti pensa a un episodio che magari sicuramente ti sarà capitato capitato a tutti di non andare d'accordo con un collega se non vai d'accordo con un collega e non cerchi in qualche modo di capire perché non vai d'accordo con lui e cerchi di appianare le cose con lui è indubbio che il problema del non andare d'accordo sarà un problema centrale per te che andrà ad assorbirti grandi energie ecco che esercitare la leadership in una situazione di questo genere potrebbe essere appunto data dal fatto di sedersi di fronte al collega e proprio parlargli il leader fa questo prende in mano la situazione prende il cosiddetto toro per le corna e cerca subito di comprendere che cosa è possibile fare di diverso per riuscire appunto a risolvere il problema e non a dare una colpa perché nel momento in cui noi dessimo una colpa al collega probabilmente il collega darebbe la colpa a noi e la situazione non evolverebbe ma anzi andrebbe a stagnare se non addirittura a peggiorare e a deteriorarsi pertanto se non si approccia il valore della responsabilità in un certo modo si entra in un ciclo in una sorta di circolo vizioso che è il ciclo dell'irresponsabilità dove nel momento in cui c'è un problema e tutti quanti noi ne abbiamo di problemi e ne viviamo di problemi durante la giornata la ricerca costante del colpevole ci porta per esempio a sgravarci dalla coscienza dal dire ma se c'è un problema la colpa non è la mia pertanto non posso farci nulla e quindi questa ci porta ad una sorta di inazione di contemplazione del dolore che però non risolve le cose diverso invece è il leader che si muove con un alto valore della responsabilità dove nel momento in cui esiste un problema si rivela un problema e conseguentemente anche il dolore che questo problema provoca la prima cosa che il leader fa è appunto quello di chiedersi chi è che ha il problema il problema in questo momento ce l'ho io perché magari questa determinata situazione il fatto che non arrivano sufficienti clienti non riesco a raccogliere sufficienti masse non riesco a far crescere la mia impresa di consulenza non riesco a migliorare il rapporto con una certa parte di clientela non riesco a organizzare delle cose che possano portarmi a generare del nuovo business ebbene se io vado a ricercare le cause all'esterno non riuscirò mai a risolverla questi problemi se invece io comincio a dire ma chi è che ha il problema ce l'ho io e quindi che cosa posso fare io ecco che immediatamente comincia a diventare naturale l'agire agire verso che cosa verso l'individuare una situazione ideale una soluzione ideale agire nel cercare una soluzione di compromesso qui a Milano per esempio è molto facile sentire le persone dire è meglio piuttosto che niente oppure potremmo anche trarre beneficio e trarre un apprendimento per il futuro proprio per cercare di evitare che l'errore si compia nuovamente che ci crei nuovamente del dolore o di infine se la situazione è irrimediabile perché capitano anche situazioni di questo genere chiaramente elaborare il lutto e conseguentemente farsene una ragione ecco che il tema della leadership è un tema che a mio modo di vedere appartiene prima di tutto al cambio di mentalità se avrai la capacità di cambiare mentalità di approcciare tutti gli eventi che arrivano con la mindset la mentalità di dire se è un evento negativo vedo per quale motivo il problema si è venuto a creare e quindi cerco di fare in modo che questo problema lo possa risolvere proprio perché se non lo risolvo oltre a crearmi danno ma nessuno se ne prenderà cura ma soprattutto esercitare la leadership vuol dire molto spesso e questo io lo devo un ringraziamento enorme alla mia esperienza manageriale è proprio quella di cercare di prevenire il problema e questo vale anche per esempio con la clientela approcciare la clientela con leadership vuol dire avere quella risolutezza che è tipica di chi è professionalmente maturo nel essere coerente ad esempio con i propri valori e proprio attraverso la coerenza con i propri valori esercitare quella leadership che comunichi immediatamente per esempio al cliente che cosa caro cliente se vuoi godere della mia expertise del mio modo di relazionarmi con te del mio modo di affrontare per esempio i problemi legati agli investimenti eccetera queste sono le mie regole e proprio perché sono queste questa risolutezza questa maturità sarà ciò che probabilmente sarà più attraente per i clienti perché troveranno in te il leader a cui affidarsi bene prima di concludere questo episodio voglio invitarti a iscriverti al gruppo facebook dell'imprendi promotore perché iscriversi a questo gruppo è probabilmente il modo migliore per continuare ad accedere a questi contenuti esclusivi non solo il podcast ma penso anche alle live settimanali che all'interno del gruppo faccio quali l'imprendi promo show e la pre-ri promotore nell'imprendi promo show intervisto ogni settimana a un consulente finanziario che condivide con me e gli ascoltatori le proprie strategie ed esperienze con le quali ha fatto crescere la propria impresa di consulenza finanziaria è un appuntamento imperdibile che è molto seguito perché la generosità per esempio di questi consulenti finanziari nel farsi intervistare ma soprattutto nel mettere a fattore comune le loro esperienze sia quelle negative sia quelle positive dimostra una insana e grande dote di leadership che io apprezzo e stimo tantissimo nell'altro show che va in onda l'imprendi promo show dimenticavo va in onda il martedì sera alle ore 21 mentre la peri promotore che è l'altro show che si tiene sempre all'interno del gruppo facebook dell'imprendi promotore e che va in onda alle 21 questa volta di giovedì sera intervisto invece sempre con cadenza settimanale una personalità o un esperto che tramite la propria competenza professionale ad esempio sta dando manforte sta dando un fortissimo contributo alla crescita del settore della consulenza finanziaria il gruppo facebook dell'imprendi promotore è composto tra l'altro esclusivamente da consulenti finanziari come te che hanno voglia di migliorare il loro modo di fare impresa e soprattutto hanno voglia di confrontarsi non sono gelosi ma sono convinti che come diceva il vecchio proverbio africano se vuoi andare veloce vai da solo ma se vuoi andare lontano vai in gruppo hanno capito quanto importante sia anche per una professione che fa della sua spinta individuale probabilmente il carburante principale hanno capito che invece è attraverso lo scambio di esperienze di suggerimenti di pareri opinioni che c'è la possibilità di far diventare veramente grande questo settore e soprattutto il settore della consulenza finanziaria questo per me è diciamo un grande valore ed è la mia visione ed è il motivo per cui anche produco tanti contenuti a vantaggio dei consulenti finanziari quindi per poterti iscrivere al gruppo facebook dell'imprendi promotore è molto semplice cerca su facebook imprendi promotore il gruppo cliccaci sopra rispondi a tre domande perché ci sono tre domande per poter entrare proprio perché voglio assicurare che all'interno del gruppo facebook ci siano solo ed esclusivamente consulenti finanziari bene per oggi è tutto io sono Enrico Florentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria ti saluto e ti invito a seguire l'imprendi promotore podcast e soprattutto a parlarne ai tuoi colleghi e ci sentiamo alla prossima puntata ciao hai ascoltato l'imprendi promotore strategie per far crescere il tuo business con Enrico Florentino per informazioni domande suggerimenti scrivi a info chiocciola imprendipromotore punto it a l'imprendi a la